Si chiama Elisabeth Milish, è una donna americana che di lavoro fa la maestra di scuola elementare e la storia di cui mi è presto a parlarvi ci fa capire che molti esseri umani a volte sono davvero persone straordinarie ne è il caso di specie, infatti la donna Elisabeth ha deciso di pubblicare il suo stipendio su Facebook e avrebbe compiuto tale atto spiegando che alla base ci sarebbe la voglia di far sapere che lei stessa fa del bene ai suoi alunni quindi in buona sostanza la donna in questione va a far capire che il suo ruolo è educante, è educativo è un ruolo determinante per quanto riguarda i diversi esseri umani ecco questa donna davvero secondo me ha le carte in regola per essere definita come unica nel suo genere una donna insomma che ama il suo lavoro, che vuole farlo vedere e soprattutto vuole far capire a tutti che il ruolo di maestra e di insegnante non è mai un ruolo diseducativo ma è sempre un ruolo molto educativo grazie a voi utenti di Youtube per la visione e per l'ascolto di questo video di oggi iscrivetevi se vi va, commentate al prossimo video da Annalatori Italiano